I sindaci di tutta Italia e di tutti i colori politici chiedono di riavviare alcune attività economiche, sociali e imprenditoriali che non comportano nessun rischio. Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o addirittura ad altri mesi di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio si intervenga a livello locale. Ma parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini incontrando i giornalisti nei pressi della Camera. Grazie per la visione!